Il tema delle migrazioni è un tema estremamente complesso ed è un tema di portata globale. Nell'ambito del nostro lavoro del Parlamento europeo ci siamo regati con la Commissione Affari Interni, Libertà Civili e Giustizia, prima a Lampedusa dove abbiamo assistito agli sbarchi e poi sulle navi che fanno monitoraggio delle acque internazionali nel Mediterraneo, ma anche imbarcazioni private come la Phoenix che fanno search and rescue, ossia salvano persone con fondi privati. L'esperienza di chi lavora nel Mediterraneo, di chi vive giornalmente da mesi se non da anni, quello che è un fenomeno ormai andato fuori controllo è necessario se vogliamo provare a trovare delle soluzioni concrete e fattive a breve, a medio e a lungo termine. Un tema così serio e complesso si affronta con soluzioni intelligenti e concrete, non con la politica degli slogan che non fa altro che aggravare la situazione e non risolve un bel niente.